Musica Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Musica Un cordiale saluto amici e amiche e bentornati all'appuntamento col Meteo di TV6 Per quanto riguarda questo venerdì 2 settembre si prospetta una giornata all'insegna del miglioramento dopo il transito di una forte perturbazione nelle ultime ore che ha coinvolto in modo particolare centro e sud Italia Questo significa che avremo dei fenomeni residui al sud tra la Puglia, la Basilicata e la Calabria qualche raro temporale sull'acquenino centrale in un contesto però di graduale miglioramento In Abruzzo una giornata ancora caratterizzata da un po' di nuvolosità specie al mattino nel primo pomeriggio, nubi che interesseranno principalmente i tratti costieri, la costa Tiatina, il Vastese ancora la Val di Sangro, tutto l'alto sangro con possibilità di isolati acquazioni sia al mattino sia nel pomeriggio, maggior variabilità sui settori settentrionali dell'Abruzzo Le temperature notate stazionarie massime tra i 25 e i 27 gradi minima decisamente più gradevoli fino a 14-15 gradi nei settori interni tra i 18 e i 21 gradi su coste e primo entroterra Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi Arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Grazie a tutti